Un momento importante, il decennale del terremoto, secondo il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, che in merito alla ricostruzione della città assicura che i fondi ulteriori che serviranno continueranno ad essere assicurati e che il Governo non abbandonerà l'Aquila. Anche il Sindaco del Capoluogo, Pierluigi Biondi, ha chiesto al Presidente della Camera di poter intercedere per nerliere delle procedure e dare un impulso alla ricostruzione pubblica. Fico è stato all'Aquila assieme al Vice Ettore Rosato per presentare il rapporto 2017-2018 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea. È un segnale significativo, l'abbiamo voluto fortemente, essere qui a presentare un po' lo stato della legislazione. Farlo all'Aquila ha un significato importante, fondamentale, significa che le istituzioni sono vicine, vogliono essere qui. Ricordo che la Camera dei Deputati ha versato più di 160 milioni di euro di risparmi nel fondo per le zone terremotate e stiamo cercando di fare un percorso insieme alle regioni in difficoltà che hanno avuto grandi problemi e dobbiamo essere vicini e continuare su questa strada il più velocemente possibile e il meglio possibile. Mi sento di rassicurare nel senso che so che tutto il Governo e il Parlamento su questo non molleranno e anche se ci sono tante problematiche sicuramente questa ha una priorità assoluta. Il Presidente della Camera sulla Sea Watch dice che non c'è un problema di migrazione e che 40 persone non possono rappresentare un problema per l'Italia. Il Presidente dopo l'intervento a Palazzo Picalfieri ha fatto un breve giro a piedi nel centro storico prima della visita all'emiciclo, sede del Consiglio regionale. Sulla Sea Watch non credo che ci sia nessuna emergenza a migrazione in questo momento quindi 40 persone a bordo di una nave non possono essere un problema per un Paese senza dubbio l'Europa deve esserci vicina, ci vuole forte condivisione europea e spero che gli Stati si facciano avanti il prima possibile.